dicevo detto questo possiamo andare all'assaggio se mi vedete che tremo è tutto normale sono molto sono uno molto ansioso e quindi è normale che tremi allora ecco ne assaggeremo poco così non so se vedete io forse ne potevo mettere anche di meno però vabbè vabbè andiamo madonna madonna che schifo direi di andare subito con lo stemperamento niente non va via raga madonna scusate se dovete vedere questo scempio di me mentre mangio però mamma mia ho anche difficoltà a parlare penso che non lo e questo lo metteremo a posto non lo assaggeremo più niente raga non va via non va via non va via questo cazzo di pane non so se si vedete ma sto iniziando a lacrimare non so se si vedete ma sto iniziando a lacrimare c'è ecco se bevo il latte mi smorza cioè nel senso non non lo sento più il piccante e quando smetto quando smetto di bere dopo l'inizio non so se ne intrabraccio diciamo non è certo non è facile perché cazzo cazzo